Quest'anno ho deciso di portare una presentazione un po' particolare rispetto agli altri anni dove chi mi ha seguito, comunque ha seguito le presentazioni che ho in genere portato, quindi sempre tendenzialmente sull'ambito amministrativo. Quest'anno, dato il particolare anno che stiamo attraversando, io parlo come sistema Italia, ma anche come sistema Europa se vogliamo, dato anche un po' il mio cambiamento di rotta nell'ambito delle competenze e nell'ambito informatico, ho deciso di dare un taglio diverso a questa presentazione. E ho deciso di parlarvi appunto di smart company, inteso come azienda intelligente. Oggi parliamo tanto, troviamo spesso questo termine in giro, volevo cercare di raccogliere un insieme di elementi, di metterli a fattore comune e cercare di capire meglio qual è il nostro ruolo oggi in questo mercato, il ruolo dell'IT in generale, oltre al fatto che siamo dei lotussiani o dei web spiriani e quant'altro, e cosa possiamo e potremo fare per aiutare il nostro paese e la nostra azienda. Agenda. Questi sono più o meno i contenuti che andremo a vedere nella mia oretta. Quindi partiamo dal concetto smart, come si diventa smart, essere smart, quali sono i megatrend che portano all'esigenza di essere smart, diventare una smart company, la smart company e infine una declinazione un po' più diciamo filosofica di che cos'è di fatto la smart company concettualmente. Non ultimo, il ruolo dell'IT. Questo a mio avviso oggi più che mai è un elemento in discussione, ok? E merita di particolare attenzione, perché oggi il ruolo dell'IT è decisamente a mio avviso in crisi. Allora parto con una cosa alla lontana, 1955, cosa è successo nel 1955 in Italia? L'auto, la ricordate questa? La mitica 600, è quella che ci ha portato fuori dalla crisi, quella che ci ha portato nel boom economico post seconda guerra mondiale. La 500, la 600 scusate, insieme a tutto quello che ne è derivato, la 600 che cosa è stata? È stato un grande veicolo votato alla mobilità. Le persone con le auto, con auto accessibili, diciamo economiche fino a un certo punto, comunque in grado di poter essere acquistate anche da un numero ampio di persone, ci ha permesso di investire per esigenza su infrastrutture, fino ad arrivare ai giorni nostri, in realtà non proprio ai nostri giorni, comunque fino ad arrivare alla conclusione di questo grosso trend che è stato anche un boom economico per l'Italia, no? L'ho chiuso con la smart perché fa figo dire smart e mettere la smart, era carino, no? Non significa niente, l'unico concetto di questo oggetto smart è il fatto che come macchina piccola, diciamo economica e comunque funzionale nell'ambito della mobilità, ci stava bene. Andiamo avanti. Oggigiorno parlando di mobilità, parlando anche di trend economici e quant'altro, diciamo che la mobilità tutt'oggi è uno degli argomenti chiave che influenzano la nostra vita sia a casa che anche nel lavoro, siamo d'accordo? Adesso al di là del termine brutto mobilità nel lavoro così come è concepito in Italia, visto che non è propriamente funzionale ma ti lascio a casa, se stiamo sul termine puramente tecnico ha un concetto positivo. 1992, non lo sapevo neanch'io, il primo smartphone era di IBM, si chiamava Simon, non so se qualcuno ha mai visto, io no, vi giuro che è così, dati che ho trovato e confutato in internet. Primo smartphone, quindi il primo concetto di mobilità, anche se sembra un citofono più che un telefono. 2003, è arrivato Blackberry, o meglio è arrivato Blackberry a colori, che è stata una grossa innovazione, io non metto tutta la fila di storie dei device, se no stiamo qua una settimana, quindi ho messo quelli che sono i pillar, quindi gli elementi più, i momenti più significativi dell'introduzione delle tecnologie che ci hanno un po' cambiato anche il modo di lavorare. 2007, lo sappiamo tutti, è arrivata la Apple, ha portato il full touch, l'Apple iPhone è quello che ha determinato un cambiamento radicale nell'esperienza, nella mobilità, e da lì c'è stata un'accelerazione incredibile, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui il parco mobile è decisamente molto più ampio e eterogeneo, abbiamo Android, Apple, abbiamo recentemente, si è affacciato sul mercato e sta cercando di guadagnare posizioni, il nostro amico, o meglio dire nemico Microsoft, per quanto riguarda la piattaforma mobile, Apple ovviamente continua a evolvere sotto questo aspetto, però diciamo che oggi abbiamo un numero di device e di funzionalità decisamente ampie, si parlava prima nelle sessioni anche di SendTime, si diceva l'Italia è forse uno dei paesi in Europa che in assoluto ha il rapporto device, mobile, l'uomo più alto, uomo-donna che sia più alto d'Europa, se non fosse anche gli Stati Uniti, sempre che ci sia una statistica adeguata. Ci piace quindi la mobilità, in linea di massimo. Cosa vuol dire essere smart oggi? Oggi essere smart significa utilizzare più device e credo che questo sia un dato di fatto. Io vi perdono solo perché c'è lei che è una donna. Oggi essere smart significa avere più device, non so voi però io giro con uno, due, tre e voi ho lasciato il mio portatile di là. Sfido a qualcuno di voi che mi dice che non ne ha almeno due. Due è il minimo, se no sei un barbone. Adesso ho detto proprio... Due tecnologie diverse. Sì sì certo, due device con tecnologie diverse. Se no, potevo mettere una slide, se no sei un barbone. Quindi oggi noi abbiamo uno smartphone e qui scegliete quello che volete. Abbiamo un tablet e qui scegliete quasi quello che volete. Un laptop, chi ce n'è? A go go. E poi? Cosa ci manca? Chi me lo dice vince una... non lo so, qualcosa. Eh? TV, da portare in giro è un casino. Eh? L'orologio? L'orologio? Smart. Eh però stiamo nella gadgetistica. Eh? Siamo un po' nella nicchia. Cos'è che manca ragazzi? Ma la c'è un'altra cosa? Ma la c'è un'altra cosa? Non lo so, non lo so, non lo so. No? No? Book reader. Quando mi dici book reader mi metti insieme due parole che... No, Kindle è sempre smartphone. Eh? Ragazzi. L'ultra book. Oh, ma vi siete persi l'ultimo giro di boa? Eh? L'ultra book. Il MacBook Air è il primo che fondamentalmente ha introdotto la tecnologia... Non per dire surface però... Aspetta, aspetta. Aspetta un attimo. Vedo già che ci spariamo a bordo. No, non è vero. L'ultra book. Adesso Apple è stata la prima a diciamo aprire un po' come sempre la via tecnologica. Adesso stanno arrivando tutti i vendor. Lenovo, Samsung, HP. Con l'oro equivalente. Caratteristica principale di questo device è grande mobilità. Cioè capacità di un laptop con il peso di un tablet ma le funzionalità superiori del laptop. Nel senso che ho a bordo un sistema operativo. Apple o Lion per il mondo Mac. Windows per il mondo Microsoft e Intel. Che mi permette di lavorare a pieno. Siamo d'accordo che il tablet e lo smartphone non mi danno ancora completa autonomia funzionale di lavoro. Sono dei grandi consumatori lettori in termini di costruire contenuti è un po' più faticoso. No? Eccolo qua. L'hai citato. L'hai citato. Ma l'hai rovinata. Era la seconda, era secondo premio questo. Questo coso qua è stato annunciato, in realtà il 18 mi pare, ho sbagliato forse un giorno. Annuncia due prodotti interamente realizzati in casa. Hardware e software. Che cosa ci dice questa, questa cosa? Perché? Perché Microsoft dovrebbe mettersi adesso a rimettersi, rimettersi a fare dell'hardware. Dico rimettersi perché non dimentichiamoci che hardware l'aveva già fatto. E aveva fallito. Secondo voi? Chi è che oggi sta vivendo di se stesso e aveva, ha azzeccato fino adesso praticamente tutto? Apple. Apple. Apple cosa fa? Tutto. Controlla dal software all'hardware, ottimizza il software sull'hardware, l'hardware sul software e via dicendo, no? E oggi è stata un'arma vincente nell'ambito degli oggetti mobile, adesso in generale. Microsoft se ne esce un questo coso, un questo annuncio, ovviamente è un annuncio, quindi poi da qui a vedere se uscirà veramente, quanto sarà veramente bello, ne passerà. Ma non è importante questo. Io volevo farvi solo notare questa cosa. Intanto sembra più un portatile che un tablet, perché in realtà è un tablet con la cover che è portatile, che è tastiera. E già questo non è stupido. Questi accessori c'erano già per il mondo iPad. Qual è la differenza sostanziale? È che è proposto in due formule. La formula ARM, che per i non amanti assoluti del mondo mobile, tutto quello che è ARM sono i processori che stanno capo di tutti i mobile device, che sono processori tendenzialmente a basso consumo energetico, ottimizzati, bla bla bla, comunque potenti. Tendenzialmente però per piattaforme come l'Android, la parte iOS di Apple, eccetera. Non piattaforme Intel, concettualmente. Quindi questo può essere un buon prodotto, può essere un competitor diretto del mondo iPhone o tablet, Android in generale. È comunque su piattaforma ARM, quindi vivrà su una piattaforma software Windows RT, che è la versione tablet, passatemi il termine, del sistema operativo. Sì, fondamentalmente ha il suo market, come oggi quello che tu hai sul telefonino Nokia Lumia e Vattela Pesca, no? Stessa cosa. Quindi comunque è limitato dal punto di vista funzionale, inteso che qua non girano sulle applicazioni come Word, Excel, PowerPoint, quelle che siamo abituati a vedere su un laptop. Sì, però è un'elaborazione dell'office, non è l'office vero. Qui invece avremo un oggetto che è sempre uguale, più potente dal punto di vista hardware, perché ovviamente Windows è un po' più pesantuccio. Windows 8, questa cosa qua dovrebbe uscire dopo l'annuncio di Windows 8, l'annuncio di rilascio. E questo spacca un po' i paradigmi, perché se è vero quello che stanno promettendo, ci stanno promettendo un tablet che in realtà è un laptop. Cioè è un ibrido tra il Ultrabook e il tablet. Perché ha le potenzialità dell'Ultrabook in termini software, perché qui Windows 8 farà girare su tutta l'office suite, Photoshop, AutoCAD. Adesso l'unico limite potrebbe essere legato al fatto che qui non potrò avere due tera di spazio disco, però avrò 128 giga SSD, quindi solid state, quindi veloci. Potrei avere qualche limite sulla scheda grafica, tutto quello che volete, ma neanche sull'Ultrabook ho l'Enterprise. Dipende cosa devo fare. Sta di fatto che questo potrebbe spaccare il paradigma del multi device, o in parte del multi device. Chiuso Milano, nel senso non voglio vendervi questo, non mi interessa, ci tenevo però a darvi questo punto di vista, visto che sempre di più la parte mobile è in movimento. Ecco, vabbè, è una battuta, ma neanche più di tanto. Questa cosa qui è annunciata per fine 2012, terzo quadrimestre, che poi collima con l'uscita ufficiale di Windows 8, che è piuttosto atteso al di là di questa cosa. Ma andiamo avanti. Quindi, abbiamo Apple, Apple è un'azienda che arriva dal mondo consumer, tradizionalmente, cioè lasciando perdere che faceva macchine per la mondo grafico, che però era molto di nicchia, concettualmente Apple arriva dal mondo consumer come brand. e oggi abbiamo Microsoft, che sono i due grossi antagonisti nel mondo software soprattutto, ma adesso anche Ardo probabilmente, che arriva dal mondo business. Se qualcuno di voi segue un po' gli andamenti di cosa sta succedendo proprio nel mondo mobile, eccetera, avrà più o meno capito che sta succedendo questo. Consumer to business, business to consumer, cioè si sta flettendo completamente il mondo, i prodotti ormai non hanno più questo divario, ma questo l'avete già capito nelle vostre aziende, no? Una volta l'azienda aveva, dava il famoso portatile OPC aziendale, che sembrava che le facessero solo per le aziende quelle cose lì, no? Costavano un pandemonio, erano potentissimi, bello, no? Poi è successo che con l'avvento della tecnologia, l'evoluzione, la mobilizzazione, la consumerizzazione, adesso ne parleremo ancora un po', arrivano in azienda persone che hanno a casa roba più bella di quella che l'azienda ci dà. Più bella, più performante, l'ho scelta io. E' qui il fenomeno del flat, quindi del fatto che business e consumer ormai si sono appiattiti come prodotti fondamentalmente, perché il consumer è entrato nel business pesantemente e il business fondamentalmente non è andato nel consumer, però si è appiattito su questa cosa. Non ha prodotto nuove soluzioni o nuovi prodotti che hanno rialzato il concetto business. No, noi siamo business e i prodotti business sono così, no? Non è successo questo. Cosa vuol dire essere smart oggi? Significa essere sempre connessi. Ovviamente io adesso sto facendo delle considerazioni, se volete un po' tutto un percorso che voglio fare insieme a voi. Se dico cavolate, cosa che è probabile, potete fermarmi, alzar la mano, intervenire, non c'è nessun problema. Verrete fustigati e basta. Sempre connessi, perché tutti questi device fondamentalmente hanno bisogno di internet, hanno bisogno della connettività per la loro massima espressione. Perché nascono per essere mobili e quindi per loro natura devono consumare in mobilità. Quindi essere smart oggi significa devo accedere sempre e comunque ad applicazioni e servizi, sotto le loro svariate forme che oggi è possibile dare, erogare con il cloud e quant'altro. Device, network, applicazioni. Oggi il nostro mondo è composto da tre strati, in maniera macroscopica. Il nostro fantomatico lotus sta qua, all'interno di questa pseudo bolla, che poi può essere declinata in applicazioni erogate dalla mia azienda, e quindi io accedo tramite una VPN, via internet, arrivo qua e accedo alle mie applicazioni, piuttosto che via internet accedo a applicazioni che sono cloud, che sono in un data center X, che sono la, adesso non mi ricordo più come IBM lo chiama, però... Cloud, forza, 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 forza. Nelle varie inclinazioni, cloud pubblico, cloud ibrido, perché può essere anche in modalità ibrida, e o privato ce l'ho a casa mia, in un mio data center. Oggi essere smart significa essere produttivi. Tutto a stare in corsa a device potenti, che fondamentalmente nascono per consumare, il maggior obiettivo di questi device è consumare e non produrre. Siete d'accordo con questa affermazione? E' consumare, sono nati per consumare, e l'unico modo che hanno per consumare è banda, connettività, applicazioni. Non è un caso, infatti, che quello che oggi sta vincendo nell'ambito un po' strategico a tutto tondo, che parte dal mondo device, arriva alle applicazioni, e abbiamo detto Apple, si intende, io oggi non sono pagato da Apple, anche perché Apple ne ha già abbastanza di suo, e poi paga poco. Però è in dubbio il suo ruolo nell'informatica di oggi, di grosso player, che sta guidando fortemente a livello delle decisioni, ma anche a livello di come il mondo sta erogando i servizi. E il suo grande successo poi si è, diciamo, concentrato qua. Ma Apple è più bello perché ha più applicazioni, al di là che siano fatte bene esteticamente, la user experience, eccetera. Se voi andate a vedere tutte le volte, non lo so, un giorno sì, un giorno no, c'è la classifica del garner di turno, o degli statisti mondiali che dicono, ok, Apple ha 100 milioni di miliardi di applicazioni, oggi, del market. Android ne ha 70 milioni, e Microsoft ne ha 10 milioni. Il più figo chi è? Quello che ne ha di più. Infatti quello che è più share market, tendenzialmente, dimmi. Ok. Prendo atto. È più figo. È dentro più figo. Perfetto. Sì, sì, sì. Ok. Però resta il fatto che i tre elementi chiave sono questi, no? Device, esperienza utente, connessione, applicazioni. Se l'applicazione fa schifo, la connessione può fare ancora più schifo, e il device serve a poco. Quindi, questo trio deve funzionare bene insieme. Ok. Un'applicazione che non è fatta per Apple, o non è fatta per il tablet, non viene usata, non funziona, non la vuole nessuno. È qui la produttività. L'attenzione alla produttività. Smart City, ne avete sentito parlare, immagino. No? Sì? Smart Car? Beh, quella di prima. Smart TV? Adesso, l'ultimo, l'ultima analisi, credo che sia stata fatta su richiesta di Samsung, dice che, per il mondo, quindi consumer, stiamo parlando, Smart TV, la televisione intelligente che mettiamo a casa, tutti i player nel mondo della televisione, quindi Samsung, LG, eccetera, stanno lavorando e stanno implementando intelligenza sulle loro televisori che iniziano a navigare, diventano full touch, 3D, YouTube, eccetera. Perché? Perché un televisore oggi costa, adesso lo sparo, un 40 pollici a LED costa 600 euro, se io te lo do con scritto Smart TV può costare anche 1000 euro. Questa parte sta diventando l'unico elemento discriminante, importante, nel mondo consumer, perché ormai le televisioni le fanno tutti, e ormai il prezzo del device fine a se stesso sta calando sempre di più, la tecnologia più o meno è stabilizzata. L'intelligenza messa a bordo, fatta meglio, più bella, integrata, LG ha fatto l'integrazione, se non sbaglio, con Google, ha fatto un accordo specifico, quindi ci sono delle strategie in atto, garantisce un mercato migliore nella vendita di questi prodotti. Smartphone ne abbiamo detto, smart refrigerator non lo sapete, ma ci sono, Whirlpool, fanno tutti questi cosi qua che se li mandi le sms e non lo so, ti sbrina la carne prima che arrivi a casa, speriamo che un hacker non lo faccia al posto tuo, se no ti trovi a casa sbrinata. Smart network, smart network perché siamo sempre qua, tutto questo funziona se l'ecosistema è TCP, più o meno credo che l'avevamo intuito, no? Il paradosso è che ormai stiamo finendo anche l'IPv4, quindi dovremmo andare per forza sull'IPv6 perché quando si parla di le cose di internet e quindi il concetto per cui ognuno di questi oggetti diventerà un IP, deve essere un IP per forza perché se no la smart TV come cavolo fa andare su internet e darci contenuti, deve prendersi un IP. Dinamico, statico, chi se ne frega, sta di fatto che tra poco anche le lampadine avranno un IP. La domotica ci sta portando sempre di più ad avere il controllo di ogni elemento della nostra casa o del nostro ufficio per il controllo, quindi se io voglio la domotica per cui quando uno se ne va via in automatico si spegne tutto per un saving, non mi devo ricordare di spegnere le luci, adesso al di là dei sensori in movimento bla bla bla, avere tutti questi dati, averne il controllo, averlo anche da remoto, gli allarmi da remoto, eccetera, le videocamere, tutto questo viaggia su IP, questo è lo standard, ogni IP e l'IP pretende indirizzi IP, quindi l'IPv6 ci tocca, siamo già indietro in Italia, c'è stato tra l'altro un paio di mesi fa forse un summit sul inaugurazione, sì sì sì, e noi come sempre siamo gli ultimi. Quindi, se smart vuol dire intelligente e non l'ho inventato io, il vero problema è ma noi saremmo mai in grado di gestire tutta questa intelligenza? Perché poi l'intelligenza l'ha gestita, no? Perché sennò diventa non intelligenza, diventa non intelligenza. Vi faccio vedere un video, qualcuno di voi ha visto, l'ha già visto il video di Expo 2015? Ok, vi faccio vedere una cosa che se vi darà le stesse emozioni che ha dato a me sarò contento, parlo di emozioni, poi dopo discutiamo sulla questione di dopo. Iniziamo, stiamo ad adesso, quello che vi faccio vedere adesso. Un minuto e me. stiamo iniziando, stiamo iniziando a fare un'interesse in l'exhibizione. e un sistema di sviluppo continuo di sicurezza. Le città speciale elettronica sanno attraverso come un strumento di informazione e comunicazione, permettendo ai visitori interagire con l'exhibizione. Grazie a la realtà aumentata, i visitori potranno visualizzare le informazioni aggiorniche che avvicinano il loro horizonte, mentre la realtà immersiva amplificerà ai visitori di attraverso il tempo. Prendere la vita nel passato e interagire con la realtà grazie a loro avatari. La salute del visitor è un altro punto clave. Visitori potranno essere monitorati e, in caso di necessità, essere localizzati e assistiti senza chiedere di domande. L'avatar interagirà due diverse mondi. Tableti di pavilioni, per esempio, permettere a quelli fisicamente presenti a l'expo interagire con i visitori virtuali. Cosa vedete? Cosa vedete? Adesso, al di là di Expo 2015 che non voglio aprire la questione perché non la voglio aprire. Tutto quello che fanno vedere in questo video in realtà è quasi tutta tecnologia abbastanza matura. Gli RFID. Lo accennava prima qualcuno il discorso di avere l'orologio intelligente. Piove. Piove. Questa persona che non stava bene aveva alla fine un oggetto che parlando wireless faceva una rilevazione del battito di cardio e diceva questo qua c'è qualche problema. Una figata, no? Sarebbe il mondo ideale da questo punto di vista. Però queste sono tutte tecnologie che al di là di qualche spinta un po' forte tipo la realtà aumentata o gli occhialini che comunque Google sta già fondamentalmente sviluppando. Quindi non stiamo parlando di fantascienza assoluta. Sono tutte cose che sul piatto più o meno abbiamo. Ok? Chiaro che metterle insieme sia a livello funzionale che a livello economico perché poi non è che te le regalano. Non è né semplice né scontato. Ok? Però sono sicuramente questa era il se vogliamo la pubblicità più bella nella mondo tecnologico diciamo possibile. Ok? Comunque fattibile diciamo. E rappresentava il massimo dell'esperienza dell'efficienza. Siamo d'accordo? Cioè questa è se vogliamo il desiderata sarebbe di questa città ideale. Ok? Io su questo un po' concetto ho voluto oggi costruire mettere insieme un po' di elementi per fare quello per mettere insieme quello che è la desiderata della nostra azienda ideale. Ci sono degli animali strani che si muovono ma andiamo avanti. Se riesco. Mi sto annoiando? Lo so che è una cosa particolare però ci tenevo quest'anno a fare una cosa un po' diversa. Megatrend e cos'è sta roba qua? Mobilità. Biod mi sembra una pillola schifosa. Bring your own device. Prendi il tuo device e portatelo al lavoro. Qualcuno di voi usa al lavoro un device di sua proprietà? Non abbiate paura tanto non lo dico per questi capi. Nel senso che tu hai un telefono hai un ipad non lo so adesso ho un tablet eccetera e pur avendolo comprato tu di tua tasca per semplicità per semplice comodità del fatto che io la posta preferisco leggerla sull'ipad che non sul pc magari vado da un cliente eccetera uso magari un mio tablet. Succede. Non è che stiamo dicendo cose bestemmie. Paradosso io ho questo questo è mio e lo uso sulla posta dell'aziendale. Poi la sfiga vuole che sei a casa arriva una mail la guardi però questa sfortuna ce l'ha portata Blackberry Blackberry il suo grande drive è stato che c'era lì la mail arrivava in push funzionava bene e lì la guardi perché dice cosa succederà domani quando arriverò alle otto e mezza al lavoro mi preparo prima quindi ho già letto tutte le mail. Quindi questo è un trend o mega trend assolutamente in in essere oggi no? Il cloud ormai chi non mastica cloud? A parte il cloudio cloud è un po' dappertutto pubblico privato ibrido ci sono milioni di forme banda larga connettività questo è un grosso mal di pancia per l'Italia questo nome ma la connettività è di fatto un'esigenza tutti i discorsi che stiamo facendo dalla mobilità al cloud perché poi sono tutti molto legati passano tutti per la connettività la consumerizzazione dell'It cioè questo processo per cui all'It prima decideva i prodotti prezzi prodotto standardizzava il più possibile ovviamente per ottimizzare gli acquisti per ottimizzare tutto quello che erano i ricambi per ottimizzare le attività se tutto è uguale uso lo stesso device i pezzi sono quelli il know-how è quello eccetera oggi non è più così oggi arriva l'amministratore delegato arriva il dirigente dice voglio la porta sopra poi va in America gli presentano il surface di Microsoft e ti arriva lì col surface così e dice fammelo funzionare eh sono problemi l'IT lo sa che questi sono grossi rogne come dicevo prima quando parlavo di ad esempio Apple e Microsoft i due ambienti il mondo business mondo consumer stanno convergendo in realtà sono hanno già non si dice convergiuto come si può dire sono stiamo compenetrando ok è un po' eh ok va beh insomma stiamo livellandoci mobilità perché? perché l'accesso alle informazioni oggi è tutto io non so voi però se io pensassi di andare al lavoro vado ancora al lavoro fisicamente almeno credo noi tutti no tranne magari qualcuno IBM che ancora ha la possibilità di riuscire a lavorare da casa in remote tutto eh tendenzialmente in un'azienda italiana media si va ancora sul posto di lavoro in linea di massima eh se io andassi al lavoro e arrivassi sul posto di lavoro e mi trovassi in una condizione per cui la mia azienda non ha connessione adesso dico a internet in generale passatemi il termine della connessione per dire verso tutto quello che sono i servizi che ho bisogno perché può essere tra me la mia sede e la sede principale della mia azienda piuttosto che nel cloud perché la mia azienda ha deciso di mettere determinati servizi nel cloud ovunque esso sia in IBM eh poor system quant'altro tanto una figata ehm non ha importanza sta di fatto che se per sbaglio io non ho la connessione io posso anche starmi a casa che forse è meglio perché se sto a casa ho la mia schifosa DSL ce l'ho e riesco pure a lavorare siamo d'accordo siamo d'accordo? chiaro io sto parlando di lavori ehm certo che se devo montare un'auto non me ne frega niente adesso ho tendenza a metacognità forse perché adesso anche le auto vengono controllate da sistemi software che poi parlano con sistemi centrali e via dicendo perché i tempi di azione e reazione che ci sono richiesti sono sempre più brevi no? prima per fare una roba ci mettevo sei ore ed era accettabile adesso per fare la stessa roba ce ne devo mettere molte di meno comunque chi se ne frega se viene male devi comunque essere più veloce e più produttivo perché la tecnologia di oggi lo permettono VoIP virtualizzazione wireless e quant'altro sono tutti abilitatori di tutta una serie di servizi che ci portano alla mobilità i device mobile oggi perché hanno un grande successo perché si è diffuso molto l'utilizzo anche di questi device come elementi per navigare non solo per ricevere la posta in push che bastava gprs adesso vado in 3g domani arriverà il 4g a me mi basterebbe un 3g funzionante ma fa niente in linea di massima con tutte le sfortune che abbiamo in questo paese in termini di servizio connettività perché comunque è in difficoltà comunque oggi i nostri device io fino all'anno scorso avevo un telefono Nokia e lo usavo come telefono sms c'aveva già il suo browser era già Symbian quindi già un po' evoluto ma mai mi è venuto in mente di pagare una contratto dati su quel device quando ho preso l'android per dirne uno poteva essere l'iPhone eccetera la prima cosa che subito mi è venuto proprio così ma questo qua se non connetto non faccio un cazzo cioè a parte la posta scusa cazzo non si può dire scusate a parte l'SMS di cui siamo stufi perché in Italia l'SMS è tutto eh non ci faccio nient'altro tutto bel coso tutto touch che ci sono le applicazioni che mi aspettano lì al varco devo connetterlo quindi ho dovuto pagare un flat decente di connettività che vabbè con tutta la difficoltà del caso quando siamo in movimento a casa mia poi non c'è neanche la G viene fuori una roba del tipo boh e no neanche no è sotto la G ancora però a casa c'è ancora la DSL per fortuna uso il wifi a casa mi aggancio il wifi quindi questi strumenti hanno bisogno della connettività ma per loro natura e questo ci ha portato a a comportarci in un certo modo e a fare in modo che questi oggetti entrassero in connessione oggi ho un telefono che è sempre connesso comunque sempre connesso chi di voi ha uno smartphone col nome smartphone eh e non ha un piano dati e di per la navigazione chi ha uno smartphone benissimo avete sotto il mio nome e volete un'offerta migliore sono della 3G scherzo quindi questo povero disgraziato in montana credo che sia in mezzo alla strada che cosa fa lavora lavora perché è connesso ovunque comunque e sempre biode molto del bionico questo signore ci regala un device o meglio ci tende un device perché il biode perché a casa lo dicevo prima abbiamo tecnologie migliori che al lavoro provate a convincermi del contrario ma non perché tutto un tratto a casa regalano i device per gli utenti a casa perché non so cosa è successo ma c'è stato un momento per cui io ero disposto a spendere al massimo per un cellulare 150 euro sto sparando poi è arrivato l'android full touch e mi sono reso conto che ero disposto a pagare il doppio per quel device e l'ho comprato poi ci sono quelli che sono anche malati quindi nel senso che appena esce una virgola in più compro il più aggiornato per l'amor del cielo cioè che in Italia ci sia la passione per il device l'oggetto va bene c'è il design gli italiani siamo un po' particolari va bene però effettivamente c'è stato questo passaggio anche in me che non sono uno spendaccione concettualmente di dire cacchio se voglio una roba fatta bene bella eccetera devo spendere e li ho spesi senza vabbè lascio perdere tutto il fatto che commercialmente i provider poi hanno messo in atto delle politiche di marketing per cui se mi prendi cosa per tre anni io ti regalo il device no? che poi non ti regalano mai niente però per te è come se fosse regalato no? quindi queste politiche hanno aiutato fortemente l'acquisizione di device molto costosi no? l'iPhone costa una fucilata cioè se pensiamo che un computer oggi con 500 euro prende un bel pc e adesso fisso parliamo anche di lato ormai i fissi stanno un po' morendo no? ma veramente un bel pc poi comunque anche molto più grosso di un iPhone che è grosso così e l'iPhone costa uguale e non fa tutto quello che fa il pc operativamente parlando no? però la gente è risposta a spendere i soldi per questo perché ognuno di noi si trova più confidente con una determinata tecnologia questa è una cosa nuova che arriva dal consumer nel fatto l'iPhone la sua esperienza utente piuttosto che andare eccetera ci ha portato a innamorarci di questi cosi e di come li usiamo perché abbiamo imparato in poco tempo non è che è venuto lì qualcuno il signor Steve Jobs e ci ha detto per usare l'iPhone devi fare così 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 un manuale di 12 pagine niente io quando ho preso la prima volta l'iPad l'iPad 1 ero a Las Vegas per lavoro sono andato un Apple Store e ho detto voglio quello perché c'erano tutti vi giuro mi sentivo una barbone come avevo detto prima ero lì tutti erano quasi tutti esteri americani indiani c'erano tutti sto cavolo di iPad io ero l'unico che girava con un Lenovo così come un Rab 90 a cercare il wireless e ho detto porco cane ma che bello questi sono tutti lì lo apro in 3 secondi scrivono la mail tanto devo farle mail non è che devo fare molto e l'ho detto cià che lo prendo vado la ho chiesto l'iPad ho preso l'iPad apro la scatola c'è solo l'iPad non c'era neanche un foglio per dirmi hai comprato un oggetto niente c'era forse neanche la garanzia credo che mi è andato però ci ho messo 3 secondi adesso che io possa essere anche bravo ma non è vero ci ho messo veramente poco quindi mi sono affezionato da quel momento in poi come consumatore ma come utilizzatore sono diventato dipendente da questo oggetto concettualmente no? e quando vado in azienda voglio usare le cose che sono capaci di usare perché le aziende non sono in grado di gestire un parco acquisti troppo disomogeneo provate a dire il contrario le aziende non sono preparate non sono strutturate per avere un parco acquisti troppo complesso e troppi diversi fornitori troppi diversi fornitori perché non ne hanno bisogno? disomogeneo perché non ne hanno bisogno? se io ti dico allora lui vuole un tablet android lui vuole un tablet ipad lui vuole un portatile samsung ma adesso lascia perdere e tu dici ma andate via io vi do a tutti un pc stigato ma bene se è stata un'azienda che ha imposto un valore che non è un valore e loro non saranno felici di lavorare così ma semplicemente e ti dirò di più non solo non sono felici ma non ci lavoreranno neanche con quel cavolo di cosa che gli hai dato tendenzialmente cercheranno di sviare questo sarà sempre di più così eh ora che le regole ci siano cioè anche io lavoro in un'azienda e mi danno il computer aziendale posso scegliere tra due tre modelli insomma ci sono le classiche cose ma di certo non è che posso andare e dirgli oh io voglio l'ipad anche se se io ti dico che per il lavoro ormai che faccio io a me questo va benissimo perché io sono sempre in mobilità sono sempre in giro quando devo produrre mi basta una postazione che c'ha su due tre prodotti che dico io che mi da comunque l'azienda per fare le mie presentazioni perché magari con questo faccio un po' più fatica me le posso fare anche a casa eh tanto si lavora anche a casa adesso voglio vedere chi non lavora anche a casa tanto per dirne un'altra ehm e se io ti dico guarda che io sono più confidente sono più produttivo così ma te lo dico anche io cioè non c'è neanche bisogno che tu ti diciamo fai la fatica di comprendere cosa sto facendo io nella tua azienda tendenzialmente eh ovviamente non voglio fare il trasformatore mondiale lo Steve Jobs che vuole cambiare il mondo no? però è in dubbio il fatto che se sono io che lavoro e faccio un lavoro che mi hai dato a fare e io sono in grado di metterci in intelligenza io so qual è il mio come riesco ad essere più produttivo no? poi certo se ti chiedo la luna ti chiedo vabbè se con la Ferrari arrivo al lavoro più velocemente vabbè stai a casa no? sei d'accordo? esatto compratelo no? però magari un discorso di sparo dirti io questo non te lo compro però visto che comunque il computer ha un valore intrinseco che la mia azienda istituisce in sparo 200 euro costo oggetto al mio dipendente queste sono analisi che si fanno con la human resource e quant'altro io ti posso dire guarda io ti do ti finanzio 200 euro poi prendi quel cavolo che vuoi no? ovviamente poi io devo riuscire ad avere qualcosa che è in grado di parlare con i sistemi aziendali chiaro ci deve essere una compatibilità se tu non sei comunque pronto ad accettare un oggetto di questo genere nella tua azienda diventa difficile no? questo apre un altro scenario un'altra questione di cui magari parliamo dopo però se io ti metto in queste condizioni dico poi questo è tuo però lo usi per lavoro perché a questo punto il tuo device di lavoro la responsabilità è tua io mi sono tolto 2-3 beghe e tu quasi e tu ho anche reso felice perché ti ho dato il device che volevi non sto dicendo che questa è la soluzione di tutti i mali eh ragazzi cioè sto dando una un'interpretazione che comunque non è che non lo sto neanche inventando io adesso eh è un'una raccolta di esperienza nell'azienda dove lavoro io questo ragionamento si sta sentendo molto in maniera molto forte ma perché? ma non perché la mia azienda piace regalare la tecnologia è talmente ricca da dare e regalare le cose perché sta capendo che ci sono tanti vantaggi lato business aziendale perché poi tutti sti device che io do al mio dipendente eh e che poi devo gestire ma non tenere eh supportare il desk e quant'altro se si rompe glielo devo sostituire ogni 3 anni più o meno devo fare il riciclo 3-4 anni poi ogni azienda ha un po' le sue politiche se vado a vedere cosa mi costa tutta questa ambaradamma forse quello lì te ne regalo due è vero è vero è vero no è vero è vero questo è vero eh c'è da dire però eh qui poi ci sono anche parecchie analisi che ne parlano no? ehm che in linea di massima e in realtà io su certe cose ho anche un'esperienza diretta in linea di massima se tu introduci bene un un prodotto nell'azienda quindi non solo che io te lo do in mano e ti saluto no? eh ma lo riesci a vendere anche bene ok? riesci a costruire un sistema per cui ehm l'utente più bravissimo bravissimo eh? chi? pc? ah ok si però quando sei all'aeroporto e la batteria dura un'ora no vabbè ok allora poi dobbiamo declinare le figure dell'azienda va bene no? io adesso ti sto dando un concetto che devi poi chiaramente prenderlo e calarlo no? è come dire per favore pendantate ci sono 5 modelli sa fine dal pc all'infazio nel vento per una volta è proprio quello che volete mi hai ricordo ma probabilmente는데요 c'è un'altra cosa ma il linee fISH ma il livello del genere è una strada ecco tutto, è quello che si da casa si poste ma va bene come filosofia è inigliato ci sono pericolati va bene inigliati eh però se ti ti dici fornisci tu questo elemento del tuo lavoro io ho un macchino troppo finante però non è questo il solito poi vogliamo adottare un'applicazione vogliamo adottarla per fermo lì, fermo lì perché stai arrivando al punto stai arrivando al punto mi permetto di fermarti e di andare avanti, hai una domanda? grazie bravissima e poi c'è e poi c'è vai dai clienti i clienti sono più avanti perché hanno già l'iPad che sia personale non guardiamo di chi è il conspetto vai a vendere un prodotto che è per gli agenti guarda, sai che un agente per comodità deve avere un iPad al di là della moda al di là dello stato che in questo momento si che può esatto però se tu non ce l'hai gli dici io ho l'applicativo se lo faccio vedere sul tuo ci sono anche proprio dell'esigenza che era figa alcune volte che non è solo per la moda io sono andata a una conferenza stampa di Smao quindi prima di Smao era fine settembre sembrava un albero di mele io mi sentivo quasi non avevo nulla avevo solo la borsa così ho tagliato la borsa però è così ormai il molto spesso al di là della cultura delle stai tutto è proprio purtroppo a volte una necessità banale perché uno dice puoi sopravvivere lo stesso certo però le cose sono fatte delle esatto Claudio è interessante il fatto che c'è che so che avete venuto da amministratore porti questo tipo di approccio iog sapendo già che i casini comportano il rischio della gestione della con le con le con le con le con le con le ma guarda posso rispondere io sono imprenditore e così mi mettono nella condizione l'amministratore ma se io anticipo le esigenze dei miei climatici e le sviluppo all'interno della mia azienda poi la mia azienda è più proazione complessa del mio cliente che interse aggredisco mercati in maniera differente un'ulteriore risposta allora ovviamente questa cosa questo cambio di posizione perché poi è una questione di dove ti posizioni a guardare il mondo ovviamente io ho avuto un cambio per cui ho iniziato a vedere cose diverse e uscire un po' da quella bolla che è il tuo ecosistema dove tu vedi il tuo piccolo il tuo mondo e quando ti toccano il tuo mondo dici ma vada via e ci app cosa vuoi ma fatti i cavoli tuoi qui va tutto bene ci penso io a te non ti preoccupare appena ti elevi un attimo vedi già cose diverse più vai in su questo vuol dire che sono diventato un dirigente assolutamente no resto un poveraccio però il discorso qual è poi arrivo alla fine il discorso è che oggi non possiamo più guardare alla tecnologia per la tecnologia perché ci rompe le palle fare una cosa diversa perché ci complica la vita fare una cosa diversa perché se la tecnologia non sposa le esigenze e qui arrivo quasi alla fine ma non sposa le esigenze del business non avremo più tecnologia da applicare perché se il business non vende e non usa la tecnologia come drive per migliorare la sua efficienza il suo mercato noi la tecnologia la prendiamo e la useremo solo per giocare a casa con l'Xbox questo è purtroppo la sintesi e guarda che per arrivare a questo al di là che non sono mica l'unico che ne parla per l'amor del cielo ho fatto un lavoro anche su me stesso abbastanza importante da questo punto di vista perché non è normale per uno che vive dall'altra parte della diciamo barriera dove costruisci i lavori ti sbatti cerchi di far funzionare tutte queste maledette cose e chiedi all'IBM perché cacchio non fai una cosa così così sarebbe meglio per tutti e tante altre cose quando poi tu vai sopra e dici ma chi se ne frega di come vengono fatte queste cose cioè se se l'iPad funziona perché funziona a livello business perché io ho che ne so centomila promotori finanziari che vanno a casa del mio cliente e gli fanno vedere un grafico sull'iPad e questo fa così e dice bello figo anche solo per questa cosa qui valeva la pena andare con l'iPad poi tu dici l'iPad integrale in un'azienda per questa cosa qua è un disastro tecnicamente non assolutamente ti dico hai ragione probabilmente ma chi se ne frega cioè a livello business quello ha ottenuto risultato e l'azienda non guadagna delle tue difficoltà IT guadagna i soldi che gli dà il cliente che è contento di vedere tutto touch tutto visibile bello queste cose qua scusa adesso ti lascio la parola stanno avendo un grandissimo successo nelle parti più alte delle aziende mediamente perché oggi a un amministratore delegato un manager non gliene frega niente avere un foglio Excel di due milioni di righe con scritti due milioni di codici che gli dice oggi abbiamo speso tot ma abbiamo guadagnato tot però se togli sottrae dei vidi forchi disfie io voglio vedere quattro grafici business intelligence che mi dicono come sto andando previsioni future come eravamo l'anno scorso nello stesso condizione quali sono stati i cambiamenti cioè è possibile avere questa cosa qua in un cavolo di grafico cioè ma grafico leggibile immediato io sono al mare la mia azienda va avanti e me lo devo guardare come sta andando le cose no? e non devo mandami il file da 12 tonnellate aprilo cerca di capire cos'è cioè non gliene frega niente nessuno questa stronzata un'altra parolaccia può costare anche 200 mila euro all'azienda in termini operativi mettere in piedi ma questo qua gli ha girato la vita perché lui con un click si vede lo status della sua azienda e vuoi che per 200 mila euro lui se dorme sono tranquilli non lo faccia adesso scusa continuo a guardare te perché ma non sentiti in colpa non ti sto colpabilizzando si si no si è sempre stato particolare adesso funzionano ma adesso ti dirò secondo me l'azienda non deve essere disposta ad accettare l'azienda dovrà accettare quando dico azienda in questo caso sto parlando dell'IT oggi sto puntando se avete notato molto sullo strato IT perché è l'IT che sta veramente soffrendo in questi tempi soffrendo e subendo posso parlare dico un'ultima cosa poi c'è Marta che mi trova perché mi tanto sono delle cose è fondamentale oggi all'interno dell'azienda che la figura dell'IT per me deve essere molto più vicino al virus perché se io gli chiedo delle cose non può rispondere in maniera tecnica deve darmi una soluzione che sia molto vicina al virus e quindi io credo e chiedo anche le persone che collaborano con me che abbiano queste visioni che abbiano questo cambiamento perché non mi serve più la persona tecnica solo la persona tecnica mi serve la persona che sappia di che cazzo sto parlando non sono mai d'accordo con me c'è le parti di causa di e quindi bisogna tra di loro quindi la prima è quella di non essere responsabili ma i componenti che aiuta un'azienda a governare questi processi se riesce a cavalcare ad aiutare i servitori che vorrete tutto domani mattina ma non è tanto quello sono d'accordo io chiedo esatto infatti non è facile perfetto andiamo avanti poi so che l'argomento sono contento che l'argomento è interessante e interessato perché adesso le applicazioni sono pronte questo è una risposta tecnologica alla questione di business cioè è chiaro che se l'amministratore delegato mi avesse chiesto su una figura aziendale di rilievo o tanto per fare un esempio mi avesse chiesto cinque anni fa io voglio su un coso mobile la mia applicazione CRM e la risposta è stata TACES perché non c'è niente non c'è tecnologia eh? no vabbè ok che vuol dire TACES uguale oggi però è diverso l'ambiente il sistema è cambiato oggi grazie anche a mobilità grazie a questi device a tutto quello che volete la consumerizzazione ma oggi abbiamo il modo per farlo e anche probabilmente non così in maniera così expensive così esageratamente expensive perché tante cose ce le ha portate proprio l'esigenza anche casalinga no? perché cloud? perché le informazioni necessarie non sempre sono reperibili nella mia azienda questo è concetto generale anche social insomma un po' ampio ormai non è più la mia azienda l'unico produttore di contenuti e di informazione che serve a me per lavorare a me chiunque a me io che sono consulente a lui che è un dirigente a lui che invece lavora nella catena di montaggio non è l'unico elemento perché l'accessibilità dell'informazione è garantita ovunque mi trovi cloud vuol dire fuori da quella porta vuol dire che in status di connessione quindi la connettività è sempre un valore in questo senso io ho modo di accedere queste risorse che adesso non mi frega dove sono quanti server le fanno girare quanta sla al 99.9 periodico per cento c'è quelle sono sempre operative cioè guardiamo banalmente prodotti servizi non business come gmail io quando ho fatto aperto gmail la prima volta gratis oh non ha perso l'unica volta c'è stato un down che mi ricordo eh no ma un down un po' più importante c'è stato forse un annetto fa ma mi ricordo caspita che andavi sulla pagina e loro costantemente ti tenevano aggiornato scrivendoti tra 3 minuti 5-10 minuti inizieremo il ripristino del sistema cazzo ma se succedeva nella mia azienda cioè adesso con quanto potremmo assemblare tu chiamai pronto ma cosa succede niente esatto non rispondevi perché il gioco è nascosto girati quando poi arriva arriva un'efficienza incredibile non ho mai pagato un euro per questo cavolo di gmail poi lui ha i suoi sistemi business per l'amore del cielo però una funzionalità elevata è uno slide importante anche se non era un prodotto per business e se voi andate a vedere chi lavora dietro queste cose qua probabilmente sono molto più maniaci loro nel tenere tutto in piedi al massimo delle performance che non poi il business vero quello che investe in disaster recovery che costano un miliardi di euro perché li devo portare dall'altra parte del pianeta eccetera perché se loro perdono la connessione l'utente che viene lì guarda di ispa eccetera si perdono tutto il loro business di visibilità marketing di immagine perché l'immagine oggi è un valore importante perché la virtualizzazione ci ha aiutato un casino ci siamo staccati dall'ardo nel senso che oggi prendo un oggetto che è un file è una macchina c'è dentro una complessità immensa la sposto il mio unico limite è la connettività eventualmente la porto all'altra parte e la tiro su servizio andato oggi abbiamo anche la parte desktop e la desktop virtualization aiuta ancora di più queste cose qua perché laddove il sistema operativo di questo non raggiunge le performance richieste il desktop virtuale con solo il tuo windows piacevole come sei abituato tu si per esempio poi mi dirai si ma che palle devo mettere su altri server altre licenze vabbè ok dovremmo trovare una quadra prima o poi perché è così impossibile realizzare economia di scala no? se io investo il cloud è dato per economia di scala no? diventare smart come si diventa? allora intanto lo si diventa perché questi trend di cui abbiamo parlato biod, cloud mobility sono dei trend sono chiamati mega trend mica per un cavolo perché arrivano e ti sfondano cioè non è che li puoi fermare li puoi perimetrare chiudere fuori dalla porta questi in un modo o nell'altro stanno entrando nelle aziende e qui la bravura di un grafico vedete che arrivano piano piano questa è la nostra azienda oggi con le sue filiali e sulla destra cosa c'è? la complessità quel maledetto schifoso coso che non fa dormire nella notte gli IT no? virtualizzazione fare tutte quelle cose lì tendenzialmente vuol dire virtualizzare profilare MDM mobile management gestirli sti cavoli device policy che sono sia aziendali in termine concettuale che poi operative dei prodotti dei servizi wireless connettività questo è il mal di testa dell'IT una smart company guardate come l'ho disegnata ha tendenzialmente quattro pillar su cui deve fondarsi uno se è composta da branch office eccetera deve vedere la mobility il mio utente che parte dalla sede A va nella sede B vincola nella sede C e torna nella D poi torna nella A deve avere la stessa esperienza aziendale cioè il suo cavolo di oggetto qualsiasi esso sia PC anche da 2 tonnellate col carrello nel movimento si deve attaccare e deve avere gli stessi servizi da ovunque lui si connette in tutte le mie sedi lo date per scontato voi oggi? sì ok ma guarda che l'altro ieri non era così scontato c'è visto aziende che multinazionali che poi avevano uno c'era il wireless con la pressure key quell'altro in Italia quello in Francia ce ne aveva un altro alta tecnologia alto sistema eccetera e poi dici sì ma se quello là della Francia viene qua e che comunque c'è la stessa azienda cioè qualche cosa dovrete condividere e gli do la mia pressure key 100 pressure key ogni sede era una pressure key da montare una semplicità invidiabile social il social non può star fuori dalla nostra azienda che voi vogliate bloccare in qualche modo limitare eccetera facebook twitter quant'altro va bene ci sono diverse motivazioni per cui questo è accettabile per determinate figure eccetera però sappiate che fondamentalmente la parte social è lavoro cioè è quella parte gratuita che un utente ti può dare perché se è vero che può perdere tempo cazzeggiando su facebook come si vuol dire lo può perdere in cento altri milioni di modi perché se uno vuole perdere tempo ci sono un miliardo di modi per perdere tempo in un'azienda cloud computing green questo lo aggiungo io particolarmente nel senso che io sono piuttosto sensibile a questa questione green inteso come oggi la tecnologia ci può aiutare a viaggiare un po' di meno magari ridurre i continui viaggi meno carburante meno emissioni più video perché un buon video però un buon video non che devo vedere 4 pixel dall'altra parte che vagamente era mio collega cinese non lo so un buon video quindi una buona esperienza da questo punto di vista significa viaggiare meno perdere meno tempo nel viaggio voi lo sapete quanto sia bello viaggiare soprattutto nelle zone di Milano tempisticamente parlando ma Milano può essere qualsiasi altra città il tutto questo deve essere come? gestito il problema è che lo devo gestire questo è il problema dell'IT ok? però io oggi non sono entrato in questioni come si dice più basilari quindi prodotti di cose servizi eccetera perché non è luogo non ha senso ma ci sono gli strumenti per gestirle queste cose ci sono che cos'è allora sta benedetta smart company la smart company è competitività cioè un modo intelligente di lavorare qui lo smart diventa l'intelligenza applicata al lavoro è produttività e cioè questo dalle Alpi alla Sicilia la produttività ragazzi è quello che manca all'Italia questo lo dicono tutti la produttività è il problema italiano e questo va a intaccare tutto l'ambito lo strato sociale che però quando io dico produttività in questo termine ci sono dentro tanti elementi c'è dentro anche un elemento di vita quotidiana perché io passo un casino di ore al lavoro so voi però ormai ho già benché superato i famosi otto ore da contratto metalmeccanico però poi io sarò anche fortunato però ho la possibilità di lavorare in un contesto per cui io non devo essere alle otte e mezza lì e partire col mio lavoro e finire alle dodici dodici e mezza andare a mangiare eccetera ho più elasticità nel mio lavoro ma credo che ognuno di noi abbia ha un'elasticità che può gestirsi più o meno varia o variabile io lavoro anche a casa tutte le presentazioni che ho dovuto fare in questi ultimi giorni perché tra queste domino point altre 50 le ho dovute fare il sabato e domenica e non me le paga nessuno cioè non mi pagano il sabato e domenica a me resta il fatto però che magari quando sarò al lavoro lunedì posso essere un po' più tranquillo un po' più rilassato ho investito del tempo a casa mia però lo recupero in un altro modo nell'azienda questa intelligenza è tua quanto della poi della tua azienda che capisci anche queste cose che tu dai è un dare avere capisco che non è facile in tante aziende anche italiane però questa è l'intelligenza applicata che diventa produttività time to market l'unica risposta alle esigenze business della nostra azienda le risposte devono avvenire quando c'è una richiesta puntuale cioè non c'è un cavolo da fare time to market oggi è un grosso problema che però è tutto strettamente legato produttività reattività ora tutto questo discorso perché perché il ruolo dell'IT ieri dall'azienda era visto come un costo l'IT è sempre tendenzialmente stato visto come un costo non come un valore qui c'è un difetto un errore di forma che c'è che è colpa sia dell'IT per come si è mostrato all'azienda quindi non si è pubblicizzato correttamente sia dell'azienda che in tempi non sospetti quindi un po' di tempo fa considerava l'IT questa cosa che devo avere perché oggi purtroppo questo computer qualcuno lo deve gestire no? dobbiamo usare il computer ok però era visto come un obbligo non un valore ovviamente ci sto generalizzando però è chiaro se tu prendi una google che cazzo gli vai a dire che l'IT è un obbligo cioè questi hanno fatto loro a fortuna oggi per me oggi l'IT è un dovere nel senso che il dovere dell'IT oggi è quello di portare l'azienda a valori guardate che io lo sto buttando su un discorso di valore ma non per ridere cioè adesso non voglio fare filosofie troppo spicciole ma ormai la nostra vita il nostro tempo vita tra casa e lavoro io non capisco più molto dove è il confine non so voi ma non c'è più veramente un vero confine no? e questo non è facile da gestire per la famiglia prima di tutto se permettete per me esiste ancora prima la famiglia del lavoro però il lavoro è un valore importante perché senza lavoro non ho famiglia devo mantenere la famiglia ci dobbiamo mantenere quindi valori come green la famiglia la gestione del tempo sono valori che l'IT è in grado di veicolare perché ha la tecnologia gli strumenti per aiutare questo il fatto che questi così qua io non li accetti nella mia azienda o gli ostacoli c'è da capire dove stanno nell'ambito di tutti questi elementi perché magari sto mi sto tagliando le gambe da solo perché questo potrebbe essere l'unica soluzione a una vita un po' migliore perché nessuno vi può dire come sarà nei prossimi anni fondamentalmente no? domani e qui mago sigma sigma quei maghi insomma domani l'IT è un'opportunità no? cos'è? questo è google drive che è andato in crash e qui il mio la mia volontà di darvi spinta no? l'IT è un'opportunità in assoluto e forse è realmente parlando una degli ambiti più importanti e più e dove veramente ci può essere un cambio significativo in tutto quello che abbiamo visto prima quindi la competitività lavorare meglio vivere meglio la vita anche al lavoro no? i rapporti sociali eccetera perché tutto diventa sempre molto più collegato eccetera l'IT è un drive fondamentale perché tutto quello di cui stiamo parlando oggi oggi tutto lo ha intorno alla tecnologia noi comunichiamo grazie e fondamentalmente per la tecnologia più la tecnologia è brava è semplice e usabile più è bello comunicare e funzionale quindi l'IT non è quell'ente che gli tocca gestire tutte ste cose e ogni cosa in più che arriva è una rottura di palle perché lo è lo so lo sappiamo tutti ma ne arriveranno sempre di più perché potete mai pensare che può ridursi il carico sull'IT si riduce nel contesto in cui è più semplice accedere alle tecnologie sono più facili da erogare installare configurare in questo senso si riduce ma la complessità non si riduce mai la complessità sarà sempre più alta perché l'integrazione tra tutto sarà di richiesta sempre più elevata quindi la questione oggi è io subirò subisco o sarò un drive di questo famoso smart che poi è smart comp di questi cambiamenti perché se lo subisco non avrò un ruolo chiave nella mia azienda e non saprò aprire e determinare degli spazi nella mia azienda per aiutare la mia azienda come consulenza si parlava prima a essere più efficiente a investire in un certo modo e quindi come consulenza per il business della mia azienda differentemente se io subisco la questione quindi subisco tutti questi cosi qua che arrivano e ne arriveranno ancora di più saranno sempre di più si arriverà quasi al vomito da quanti ce ne saranno questi maledetti device no? ma dovremo gestirli in un modo o nell'altro li dovremo gestire li dovremo connetterli li dovremo far funzionare quindi wireless per tutti e connettività in generale quindi prodotti di gestione dei device per tutti perché è necessario per la sicurezza perché poi comunque la sicurezza è un nostro obbligo fondamentale non è business ma è un obbligo IT e l'ultimo non mi viene in mente aspetta ah giusto applicazioni multipiettaforma non esiste niente che non sia multipiettaforma se pensate a sviluppare non è pensato a multipiettaforma state sbagliando anche se quella roba li costa 100 euro in più di quell'altra se non è multipiettaforma state sbagliando punto quindi la nostra bravura sarà quello di individuare i prodotti più avanzati migliori come volete declinarlo che sono bravi a essere multipiettaforma perché oggi il migliore sul mercato è Apple domani salterà fuori una start up americana di 300 persone che spaccherà al culo i passeri perché si inventa qualcosa di meglio Apple l'ha più o meno dimostrato è arrivato quasi dal niente era in una crisi nera ha tirato fuori un prodotto ci ha messo marketing ci ha messo volontà tanto vabbè tanto di altro ed è arrivata all'auge domani ne arriverà un'altra magari sarà Microsoft sarà IBM che riprende Siri il smartphone che è stato l'apice della tecnologia nel 90 lo riporta sul mercato e si ripropone come start up del mondo mobile se notate a livello proprio di mercato una volta funzionava che un'azienda che aveva esperienze pluriennale in un settore era difficile da battere parlando di mercato io che ho sempre fatto rubinetti dal 1200 oggi sono il migliore a fare rubinetti peccato che l'altro ieri venne su un'azienda coreana ha clonato tutto quello che ho fatto fino a ieri e adesso ci ha messo la tecnologia ci ha messo il rubinetto che quando gli passi davanti si attiva da solo perché c'è la fotocellula con il riconoscimento facciale e costa la metà perché tanto lui non ha fatto cento anni di duballe così a capire sviluppare eccetera purtroppo oggi per velocità per accesso anche a informazioni anche uno che si compra proprio le informazioni cioè figurati c'è anche lo spionaggio industriale è molto facile che i normali competitor che noi non avevamo nel nostro mercato Apple non era competitor nel mondo business oggi sta spaccando il paradigma no? io adesso scusate se uso sempre Apple ma lo faccio perché è un esempio proprio eclatante no? è la cosa più che mi viene più semplice ma ce ne possono essere tanti altri di esempi eh ho finito andate in pace grazie di avermi ascoltato sì in realtà adesso c'è pa c'è cos'è che c'è adesso? qui nulla